Ciao, buongiorno, buon pomeriggio a tutti, grazie, buon pomeriggio a tutti, allora, benvenuti a questa sessione, efficienza attraverso l'osservabilità, ringraziamo i nostri sponsor e siete spaventati dai costi, io sono Antonio Di Lorenzo, Principal Customer Engineer di Microsoft e con me c'è Bruno Gabrielli, Senior Customer Engineer sempre di Microsoft, vi accompagneremo in questo viaggio. Oggi vi parleremo di costi, efficienza e osservabilità, che cos'è l'osservabilità in Azure, vi mostreremo alcuni casi reali che abbiamo affrontato nel nostro day by day e vi faremo un breve escluso su quello che abbiamo imparato e come guadagnare l'efficienza, come raggiungere l'efficienza nel modo giusto e anche come mantenere l'osservabilità in efficienza. Ma andiamo con ordine. Che cos'è l'efficienza? L'utilizzo di una risorsa senza sprecarne niente, questa è la definizione del Webster Dictionary ma possiamo riassumerla in questo modo, quindi non sprecare, non fare in modo che parti di una risorsa preziosa non siano utilizzati. E l'osservabilità cos'è? Il concetto di osservabilità è un po' più complicato, è come deturre lo stato interno di un sistema complesso attraverso i suoi output, le sue misure esterne. Un concetto che ha introdotto l'ingegnere ungherese, di origine ungherese ma americano, Kalman, a proposito dei sistemi dinamici. Sostanzialmente dice che un sistema complesso posso capire come funziona attraverso i suoi, le sue mesi, i suoi output, la famosa telemetria e chi sta osservando diventa l'observer for the system, cioè colui che riesce a guardare cosa succede nel sistema. Bene ma Bruno, che cos'è l'osservabilità in Azure? L'osservabilità in Azure si può tradurre sostanzialmente in Azure Monitor, ovvero in tutto quel sistema, tutto quell'insieme di informazioni, di telemetria che Azure Monitor ci consente di catturare. Vediamo che per esempio nella parte di sinistra ci sono le data source, le fonti di dati, ovvero le applicazioni, i sistemi operativi, quindi le macchine virtuali, il lato host e il lato guest, le risorse Azure, la subscription stessa, il tenant o custom sources. Tutte queste risorse producono della telemetria che può essere di tipo metrica o di tipo log e di conseguenza in base al tipo viene immagazzinata, viene storata in repository specifici. Giusto per informazioni, la telemetria tipometrica è una telemetria molto snella, prettamente base numerica, facilmente consumabile, adatta a misurazioni con sogli semplici. È sopra l'uno, è sotto l'uno e via discorrendo, mentre il log è sostanzialmente di per sé un'informazione più verbosa. Pensiamo agli event log di Windows, del sistema operativo, contengono molte informazioni. Tutto quello che andiamo a collezionare poi viene consumato attraverso gli insights, attraverso le visualizzazioni, attraverso le varie tipologie di analisi, attraverso le risposte. Quindi eventualmente se c'è un allarme faccio in modo che quell'allarme venga risolto, banalmente riavvio il servizio, piuttosto che con tutto quello che può essere l'integrazione in Azure Logic App o terze parti, le export APIs per esempio. Ma queste informazioni dove vanno? Vanno nel punto centrale che sostanzialmente rappresenta l'osservability platform, ovvero log analytics. Abbiamo detto che le informazioni arrivano da diverse sorgenti e tutte quante vengono immaginate nel workspace log analytics, che proprio per questo, fornendo la possibilità di fare correlazione di dati, interrogazione multitabella, diventa la piattaforma di osservabilità, il punto centrale, il focus centrale dell'osservabilità. Queste informazioni, risetendo appunto in un unico repository condiviso, ci danno modo di essere rappresentate in diverse maniere, attraverso le dashboard, attraverso il workbook, attraverso le query pinnate e graficate. Lo stesso, le stesse informazioni, lo stesso set di informazioni può essere rappresentato in maniera diversa, informazioni diverse possono essere messe insieme, correlate insieme per dare una visibilità, una osservabilità ancora più ampia al fine di metterci in condizione di appunto mantenere l'efficienza. Ma l'osservabilità non è solo per quanto riguarda il monitoraggio, perché fino ad adesso abbiamo parlato di Azure Monitor, della piattaforma, di dove prende i log, di cosa ci faccio con i log, ma non è solo per il monitoraggio, io posso tranquillamente mantenere l'osservabilità, affidarmi all'osservabilità e quindi ad Azure Monitor per risparmiare i miei soldi, per fare un sizing adeguato di quelle che sono le mie risorse. Per mantenere, per verificare e mantenere la mia compliance, per rimanere sicuro, per fare un assessment di dove è il mio livello di sicurezza, la mia security posture e per mettere in piedi tutti quei passaggi necessari ad arrivare alla security posture per il target che mi sono dato. Ultimo o non ultimo, per aiutarci a far performare i nostri sistemi nella maniera dovuta. Però, veramente, 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 allora, sì, vediamo qualche caso reale. Bruno vi ha illustrato come la piattaforma di osservabilità di Azure Monitor e quindi di Log Analytics esteso a tutti i servizi di Sentinel, Azure Security Center, permette di conoscere dal termine osservabilità cosa sta accadendo all'interno di un sistema complesso. E parlavamo di costi. Un primo aiuto vi viene nella gestione dei costi di Azure dal signor advisor che vi presento qui, spero che lo conosciate. È un signore che è molto, molto attento nella vostra infrastruttura e spesso, e spesso vi dà degli spunti per iniziare il percorso verso l'efficienza. In questo caso, come potete vedere, la somma da risparmiare annualmente è una somma di tutto rispetto. Ma qual è la modalità corretta per risparmiare? Come arrivo a quel risparmio? Bene, durante la nostra esperienza abbiamo visto diversi tipi di approccio. genericamente qualcuno vedendo la somma è ovviamente a seconda del contesto aziendale, si mette testa bassa a fare il resize delle macchine. Chiamiamo l'approccio brute force, ma l'approccio brute force può avere degli effetti collaterali, perché stai decidendo se una macchina è da scalare o meno in base a un parametro registrato in un periodo molto breve da uno strumento automatico che non tiene conto delle vostre necessità. Quindi tutti i numeri sono dei suggerimenti per ulteriori indagini, non per una decisione immediata. Partiamo con il primo livello di approfondimento. Quale può essere? Il primo livello di approfondimento sono le metriche. le metriche che Azure vi offre gratuitamente per 92 giorni, solitamente sono host metrics o service metrics, a seconda se stiamo parlando di VM o di servizi Azure, Pass o Sass, e in questo caso sono VM, vi mostrano uno spaccato di quello che sta facendo la macchina in quel momento. Quindi vi offrono nell'arco di questi 90 giorni già la possibilità di capire se esistono, e poi ve lo farò vedere nella demo, delle metriche sospette, se si è sicuri di escludere che l'eventuale resize porti a dei problemi di fronte a picchi. Quello che abbiamo fatto è stato proprio usare questi dati uniti ai dati di performance in maniera destagionalizzata, cioè osservando un periodo più lungo della vostra stagionalizzazione, a seconda del workload aziendale, può essere settimanale, può essere mensile, ci sono dei periodi più o meno gravi di workload, di lavoro sulle macchine, e quindi in base a questo decidete la lunghezza del periodo e la numerosità. A questo punto la strada migliore è stabilire una strategia, in questo caso abbiamo stabilito una strategia su come intervenire, che non era solo quella mette tutte le macchine più basse o bastable, per dirla, ma anche quella di sfruttare tutti gli strumenti che Azure vi offre per diminuire il costo della vostra infrastruttura, sfruttando economie di scala, come le reserve distances, come l'hybrid benefit, come la possibilità di fare resize e anche di spegnere risorse inutili. Nessuno si, se non vengono usate vanno spente, perché fondamentalmente l'errore, il peccato originale di Azure è offrire capacità illimitata. Quindi nelle vostre precedenti esperienze di virtualizzazione, l'infrastruttura di virtualizzazione, che era un investimento one shot, permettetevi di farmi notare che manca il costo di tenerla viva, che vuol dire dal banale facility management, energia elettrica, eccetera, eccetera, questi discorsi ve li avranno fatti mille volte, ma anche le persone che lavorano per mantenere la parte hardware che è delegata a noi, di live e vegeta è aggiornata. Oggigiorno non si può, si deve aggiornare anche il firmware. Abbiamo quindi elaborato una strategia che ci ha portato a un risultato tutto sommato buono. Abbiamo abbattuto i costi senza avere problemi di service level. Il cliente si è spostato a Babbot, ha fatto grossi risparmi per, senza rinunciare a livelli di performance e disponibilità di cui aveva bisogno. Un altro caso è più legato all'interazione con le applicazioni, il concetto di performance non è solo basato sulla capacity del proprio hardware. In questo caso il cliente aveva una percentuale di HTTP 429, che sono il segnale che Azure da che hai raggiunto il tuo capping della risorsa. Cioè che per quieto vivere di tutte le risorse che noi eseguiamo su Azure, tutte le risorse hanno un cap. Non è possibile per la risorsa prendere più dei suoi dati di targa, tot cicli di CPU, tot IOP, eccetera, eccetera. A seconda del loro SCU. Il 429 in questo caso legato a Cosmos DB era un problema di risposte che superavano la capacità di Cosmos DB, che essendo un servizio, ha un'unità di scaling che è la RU. Le richieste HTTP 429 significano semplicemente riprova tra un po' hai superato il tuo carico massimo. Però questo significa che il software fa delle trai e potrebbe esserci l'effetto onda marina, cioè richieste che vanno e vengono, che a poco a poco vengono smaltite, ma sovraccaricano il sistema AI delle cattive performance. Come abbiamo fatto un'analisi in questo caso? Abbiamo usato le metriche di Cosmos DB, abbiamo verificato la periodicità del carico, in particolare di prima mattina, con dei picchi. Abbiamo anche escluso che il problema fosse dovuto a una hot partition, la hot partition è una condizione in cui una partizione di Cosmos DB contiene la maggioranza degli item, delle chiavi che sono soggette a ricerca. Di solito l'algoritmo di chiave dovrebbe distribuire equamente tra tutte le partizioni questi oggetti. In questo caso era proprio così e la curva era identica su tutte le partizioni. Quindi non abbiamo avuto nessun tipo di problema a escludere la presenza di una hot partition. Ma allora cosa facciamo? Vediamo qual è il consumo anche in questo caso per partizione, ha lo stesso identico pattern. Ci siamo accorti che il numero delle RU non era sufficiente, ma allora come procedere in questo caso? Aumentiamo le RU, c'è un meccanismo di scaling automatico, ma lì potresti perdere il controllo dei tuoi costi. Ed è una cosa che mette al disagio chiunque, posso capire. Allora abbiamo anche qui adottato una strategia basata sui numeri, basata sull'RU. Abbiamo da un lato ottimizzato il costo operando con le capacity reservation di RU ad un livello tale da garantirci una copertura molto efficace della gran parte del carico che aveva il cliente. Dall'altro abbiamo analizzato i dati dei log, e qui observability, di Cosmos DB alla ricerca delle operazioni più costose in termini di RU. Non c'è un'equivalenza a una richiesta a una RU. Alcune operazioni su Cosmos DB con le API di MongoDB costano molte più di una RU, anche 10. Quindi, lavorando un pochettino sul codice, lavorando un po' sul meccanismo di caching basato sulle di cache, lavorando sulle RU e sul capacity reservation, abbiamo praticamente eliminato il problema dell'HTTP 429, mantenendo stabili i costi di Cosmos DB. Questi sono due problemi collegati a un dimensionamento, ma l'observability ci può aiutare anche in casi come quello che vedete qui. Ed è un scenario molto frequente, perché coloro che hanno abbracciato Azure dall'inizio hanno fatto molti lift and shift, perché la priorità era chiudo il mio data center, che è in sunsetting o contratti in scadenza, tutte le migliori motivazioni del mondo, e lo porto as-is su Azure e dimentico il fase di management dei costi relativi. Purtroppo, questa pratica ha, se è eseguita senza una visione, una struttura, e io vi invito a consultare il nostro Enterprise Scale e Cloud Adoption Framework con il concetto di landing zone, potrebbe risultare in quello che vedete sulla sinistra, che è un'architettura, cioè un'architettura ingarbugliata, dove per svariate tutte legittime necessità si è dovuta fare, diciamo, parecchi override al buonsenso, tante connessioni verso internet, perché c'erano già, c'è magari necessità di averla lì, connessioni sull'on-premise multiple, chi con la VPN, chi con la express route, eccetera, eccetera, peering tra reti anche in maniera transitiva e con visibilità del remote gateway, che vuol dire che sostanzialmente vedi tutta la rete che sta al di là della rete con cui fai peering, tutte queste cose sono frutto di un certo tipo di approccio veloce nel tempo che a un certo punto mette a rischio anche la sicurezza, perché c'è un ambiente promiscuo, non c'è una netta separazione e tutti parlano con tutti, o più o meno così, e l'effetto collaterale è che il responsabile della sicurezza sente la necessità di cambiare infrastruttura per portarsi verso quella che è una pratica ormai matura che sta nei nostri framework di best practice, che è quello dell'hub bespoke con un secure hub. Quello che vedete a destra è il 2B, era il 2B di questo cliente, riorganizzare tutto in un hub che controllasse attraverso un Azure Firewall tutto il traffico east, est e north, south, cioè tutto il traffico da e per la sua, il suo data center on premise o i suoi uffici e il traffico che entrava e usciva da internet. Per realizzare questa cosa anche in questo caso si sarebbe potuto procedere interrompendo il servizio, facendo programmi di migrazione di mesi, con mapping basato sui ricordi delle persone che sono ancora in azienda, perché poi potrebbe anche succedere che le persone non ci sono più in azienda, hanno cambiato lavoro. Come possiamo procedere? Anche in questo caso abbiamo degli strumenti di osservabilità eccezionali. Questa è la service map, quello che vedete è il mio server, quindi non vi preoccupate, il cliente non aveva una macchina che si chiama HAL 9000, è una mia macchina per, diciamo, per i propositi di demo, poi vi faccio vedere la demo dal vivo. E sulla sinistra potete vedere i client che si connettono e vedete gli IP. Al centro c'è la macchina ed è possibile vedere i processi, lo vedremo nella demo. A destra è possibile vedere tutte le macchine che si connettono e con quale processo alla mia macchina. Questo permette l'analisi di ogni singola macchina quando si sta per spostarla, oppure in maniera aggregata e più, diciamo, dettagliata, esiste anche qui, in base agli stessi dati, in base alla stessa telemetria, in base alla stessa osservabilità che sta dentro Log Analytics, di vedere con chi parlano e come. Questo ha permesso di fare la trasformazione da un'architettura all'altra in maniera in maniera pulita, in maniera da minimizzare la necessità di down. Poi in realtà a uno o due down c'è stata necessità perché erano legati a un IP stampato. Chi è senza IP stampato da qualche parte scagli la prima pietra, non ce n'è in natura che non abbia da qualche parte un IP stampato invece di avere un nome DNS. Quindi, però, questo ci ha permesso di minimizzare i down e fare e portare finalmente in sicurezza una situazione in cui intrinsecamente c'erano troppi troppi punti di debolezza. Bruno, raccontaci un po' questo caso, per favore. Bene, questo caso praticamente è un caso vissuto da un cliente in cui un livello di maturità buono, si è deciso di mettere sotto monitoraggio un'applicazione per capire come stesse performando e c'è stata un'evidenza di alcune performance, non proprio ottimali o come ci si aspettava. E l'esempio, l'evidenza, è proprio questo allarme provocato dal Network Watcher per alcuni insiemi, per alcuni punti di osservazione, in particolare il round trip time. Round trip time, giusto per chiarezza, è in maniera semplificata il tempo che una richiesta impiega a arrivare a destinazione e tornare indietro con la risposta. Quindi dal mio browser io faccio www.microsoft.com, nel momento in cui faccio invio, parte la richiesta quando mi viene tornata la pagina, quell'intervallo di tempo round trip time. Round trip time era sostanzialmente troppo alto, il primo sospetto è stato il back end, quindi siamo andati a fare subito delle investigation verso il back end perché abbiamo visto appunto questo grafico, questa alta allenanza di round trip time con dei picchi non ritenuti buoni trattandosi di rete interna. L'investigation fatta sulla parte di back end dell'applicazione, avvenuta tramite application insights che cattura anche le dipendenze, in realtà ha rilevato una situazione più che buona perché la parte di end to end transaction, quindi la richiesta da capo a piedi, abbiamo visto che non impiegava tantissimo tempo lato back end, qui dentro se vedete c'è solo una transazione che prende 10 millisecondi, altre due che ne prendono due, per cui sicuramente il problema non era nel back end, anzi a questo punto, tornando al discorso che ha fatto Antonio nel primo caso, una delle ipotesi che può venire in mente è magari se il back end non è un problema posso provare a fare un downsizing e risparmio qualche soldino anche lì sopra, ma soprattutto questa analisi ci ha permesso di scagionare una vittima innocente perché appunto in prima istanza si è pensato al back end, però siamo andati avanti per capire, abbiamo anche guardato lo stato della ecco qui, lo stato della query, abbiamo fatto tutte le analisi del caso e a quel punto abbiamo capito attraverso questa queste evidenze, questa analisi più altre query ad hoc che abbiamo fatto che il round trip time alto poteva essere dovuto a un disallineamento delle configurazioni dei nodi in questione, allineate le configurazioni la situazione è migliorata, quindi diciamo che qui l'evoluzione dell'applicazione è stata più un miglioramento delle performance con un possibile adeguamento in termini di abbassamento in termini di costi al fine di dare il performing as expected. ma in tutta questa storia io anticiperei ad Antonio una domanda che sicuramente arriverà dopo nella sessione di UNA, ma come facciamo, noi abbiamo visto tutti questi casi belli e pronti Antonio, ma come facciamo a recuperare l'efficienza nel caso in cui l'avessimo persa o nel caso in cui non l'avessimo affatto? Bene, grazie Bruno, intanto colgo l'occasione per invitare tutti coloro che stanno ascoltando le nostre parole, vedendo la nostra sessione, avremo una Q&A alla fine della sessione, iniziate a fare le domande, poi alla fine ci riserveremo del tempo per rispondere e eventualmente faremo follow up. Bene, Bruno, sì, in realtà c'è una lesson learned come in ogni bella storia di questo tipo qui. Qual è la strategia? Sembra al solito quello che viene fuori è un discorso di buonsenso, ma che è messo giù con alcune funzionalità di Azure e diventa molto più semplice di quello che sembra, perché spesso la discussione è stata del tipo, ma quanto tempo ci vuole per prendere tutti questi dati, intanto io sto pagando, così detto sì, ma quanto tempo perderesti se poi non iniziano a funzionare le cose e non sai dove sta il problema o devi tornare indietro e quindi il risparmio promesso, butti via. E allora questo è quello che, questa operazione non a caso ciclica e circolare, è quello che noi suggeriamo di fare, base alla nostra esperienza, ogni volta che affrontiamo questo problema. Ed è un percorso virtuoso, è un circolo virtuoso, che vi permette di utilizzare correttamente le risorse di Azure. vi ripeto, il peccato originale di Azure è di essere capacità infinita, quindi io continuo a mettere dentro roba, prima o poi mi finirono le macchine, gli host machine del mio, del mio, della mia server virtuale, qui non finiscono. Gratis, out of the box, ti parte dal check metrics, sono istantanee, sono presenti, non c'è bisogno di fare deployment, non c'è bisogno di nessun agente, sono lì, pronti via. quindi potrei cavarmela anche così e saltare tutti gli altri. Purtroppo le metriche, in particolare per quanto riguarda il VM, se non adeguatamente istruito il VM agent, non hai una metrica fondamentale, che è l'utilizzo della memoria, perché se non dal punto di vista host, l'host assegna la memoria alla macchina virtuale, per lui il lavoro è finito, per quanto riguarda la memoria non gli interessa quello che c'è dentro la macchina virtuale. discorso diverso se dovete decidere il nuovo sizing della macchina e a questo punto nasce la necessità di andare a prendere parecchi valori molto tipici del workload, quindi la macchina Windows, la macchina Linux, il servizio, che o sono esposti attraverso metriche apposite dei servizi, oppure vanno collezionati. dobbiamo installare l'agente, ma installare l'agente su una infrastruttura medio grande è un task che spaventa molti, per questo il secondo step che noi abbiamo approcciato è quello di implementare le policies, con le policies che poi faremo vedere è possibile deployare in maniera massiva su tutta la vostra digital real estate, gli agenti, gli agenti è giusto sulla macchina e iniziare a fare il collezionamento delle guest performance, cioè di tutti quegli indicatori che sono tipici delle applicazioni che sono all'interno di una VM. Questo vi consente di raccogliere una grande quantità di dati e questa grande quantità di dati potrebbe essere la base per le vostre decisioni. per quanto tempo devo tenere questa base di dati dipende dalla seasonability, cioè da quanto è grande la vostra stagione, da quanto è il vostro periodo, ok? Più è lungo il periodo, più è possibile fare dei forecast attendibili, veritieri. Ovviamente è un periodo comunque compatibile con le necessità di risparmio. Ci sono degli strumenti built-in, i famosi insights, che cos'è un insight? L'insight che troverete all'interno di Azure Monitor è la possibilità di derivare un dato molto facilmente da una grande quantità di dati, un dato e farlo saltar fuori in tutta la sua chiarezza. Troverete degli insight che vi aiutano ad analizzare i dati, ma ancora di più, vi sottolineo, ci sono degli strumenti di analisi all'interno del linguaggio custo di Log Analytics che permettono veramente di creare dei modelli di analisi vostri, che riguardano voi, che mettono al centro i vostri contatori. Dopo aver fatto questa analisi avete finalmente la possibilità di stabilire una strategia. Fatta la strategia si può fare un pilot e potreste anche usare strumenti di recovery per quelle cose che sono di difficile applicazione in produzione, cioè si fa lo snapshot delle macchine, si fa una recovery volt prima di lavorarci sopra, ci sono tanti stratagemmi. Però la strategia è una strategia che tiene in considerazione tutte le leve che vi da Azure, non solo faccio la macchina più piccola, magari non serve, o magari è distruttivo, o magari non è possibile. E poi c'è l'implement. Come lo implemento? Beh, abbiamo tante tecniche, se siete fortunati e siete già nel mondo DevOps con le pipeline, rideployo cambiando un po' di parametri. Se invece avete le macchine, si fanno una strategia che sfrutta gli strumenti di availability e recovery di Azure e vi permette di fare una cosa serena in poco tempo. Questa cosa va ripetuta ogni intervallo di tempo ragionevole rispetto al vostro business per mantenere l'efficienza. Ma andiamo a vedere in pratica qualcuno di questi strumenti. partiamo da Azure Monitor. Azure Monitor è, come vedete, uno strumento di Azure che trovate qui nel menu hamburger, si chiama così, e vi permette di immediatamente accedere a delle metriche. Eccole qui. La prima cosa che dovete fare è determinare lo scope, cioè l'insieme di metriche che volete andare a verificare. Nel mio caso andrò a verificare delle metriche che sono all'interno del nostro ambiente di demo, la mitica, la mitica contoso e vado a prendermi un workload. a questo punto prendo una delle metriche, cioè per certezza CPU e vedete nell'intervallo di tempo di 24 ore con una velocità di 5 minuti sembrerebbe che la macchina è diciamo a un livello del 50% salvo qualche picco, ma se io poi scavo e rendo questo periodo molto più breve vedo che i picchi sono più alti, sono 70%. Quindi se io avessi valutato una media su un periodo così lungo avrei potuto fare il resize di una macchina in maniera errata, facendola troppo piccola. Qualche margine qui ce l'ho, ma non tantissimo. Ed è un valore importante anche per capire il giochino che si può fare con le bastable, cioè credit e consumo di credit. Quindi è importante questo tipo di dato. Altro strumento che abbiamo è la possibilità di utilizzare le key performance metrics, che è un workbook. I workbook sono uno strumento potentissimo di Azure Monitor e vi permette di, selezioniamo intanto la cosa giusta, vi permette di a colpo d'occhio avere ancora un maggior numero di metriche e qui avere anche una cosa molto scenica, cioè la possibilità di avere il consumo ad occhio delle macchine. Quindi istantaneamente potete vedere più o meno qual è la media di utilizzo di CPU con una colorazione che denota il loro utilizzo e attraverso questo pin potete anche metterlo nelle vostre fantastiche dashboard di cui parleremo tra un po'. Questo è uno strumento che comunque può essere utile. In realtà volevo richiamare la vostra attenzione più su questa parte che in un attimo vi fa capire qual è il grado di utilizzo delle macchine ordinato per esempio per CPU o per per read bytes network eccetera eccetera. Uno strumento ancora più potente è sicuramente quello delle performance analysis. ecco qua performance. In questo caso senza diciamo senza dover dover. Ok. Senza molta fatica si fa. Eccola qua. eccolo qua. Ma si fa il, su tutti, quindi immaginate un sistema molto complesso e fatto da tante macchine e tanti ambienti, anche un ambiente corporate di svariate decine di sottoscrizioni. In questo caso con l'uso di più sottoscrizioni, di più workspace riesco a vedere al volo quali sono le 10 macchine più utilizzate o le 100 macchine più utilizzate. Quindi in questo caso ho la possibilità di, senza ancora scrivere una riga di query, che mi rimane comunque qualcosa che posso fare, avere già a colpo d'occhio, out of the box, tutta una serie di valori che posso anche raggruppare, come diceva prima Bruno, in visualizzazioni a partire dalle nostre dashboard, workbook dashboard, Power BI, Grafana e chi più ne ha più ne metta. Anche cose custom attraverso le API, ma come raggiungo questo? Come vado a migliorare ulteriormente i dati all'interno? Beh, per i dati all'interno abbiamo detto c'è bisogno dell'agente. E per l'agente il nostro suggerimento, il best practice deploy è usa le policy, perché ti permettono di intervenire in maniera controllata, gestita da Azure e attraverso le policy di enable Azure monitor for VMSS, in questo caso del machine scale set o per VM, che vi faccio vedere. Io ho il numero di macchine a cui dovrebbe essere applicato, il numero di macchine a cui dovrebbe essere applicato, è un indice di compliance, qui al 100%, sono coperto, le ho coperte tutte. In caso di problemi come SCU non originali di macchina, cioè in particolare macchine che avete importato, si può ricorrere a PowerShell, a PowerShell desired state configuration, si possono fare un po' di altri trucchetti, per minimizzare il tempo di deployment. Fatto questo, tornano disponibili una serie di informazioni in più come quelli delle virtual machine, degli inside della virtual machine. Qui vedete una serie di macchine, questo è il mio famigerato HAL 9000 che mi accompagna in tutte le demo e lui è una macchina Hark, cioè una macchina gestita da Azure, ma è un PC che sta qui dietro la mia schiena. E qui ho il famoso DC che vedevamo prima, di cui vedevamo solo le metriche. Adesso qui invece io vi faccio vedere che oltre ad avere un dettaglio di performance assolutamente rimarchevole e la possibilità di andare a vedere il workbook per questa macchina, ho qui lo schema, come vi dicevo, dei chi si connette, delle mappe, disponibile a fette di 30 minuti a retention time. La retention massima in log analytics è due anni, quindi potete andare indietro nel tempo, con la macchina del tempo, a vedere cosa è successo. Per esempio la domenica che voi eravate al mare, noi ti ritrovate il crash, che è successo, chi stava parlando con chi? E qui ho tutti i processi che stanno parlando con la mia macchina e i destinatari, oltre a un altro insieme di dati sulla macchina, sugli eventi, eccetera, eccetera. Last but not least, è in preview ma presto sarà in GA, uno stato di salute generale della macchina calcolato sullo stato di salute dei suoi componenti, quindi una visione completa della macchina. Abbiamo visto, un'ultima cosa che vi voglio far vedere è la libreria che è sempre disponibile su GitHub dei workbook, giusto perché, ci clicco, ecco qua al volo, giusto perché è una community molto viva, qui troverete, guardate, per tutti i servizi troverete qualcosa che è out of the box, clic, tre clic e ce l'avete installato. Ok, veramente tre clic. E poi, a testimonianza che sia una community che noi conosciamo molto bene, guardate qui, che è il top contributor in ottobre, è stato Bruno. Quindi è uno strumento veramente flessibile. Quindi, ok, torniamo a una problematica che potrebbe verificarsi quando io accumulo tutti questi dati e dopo che li ho convinti, che sì, ma è convinto, è la strada da fare, ma chi controlla il controllore? Cioè, chi controlla che la mia piattaforma di observabili non diventi un punto di inefficienza? Bruno, dicci che dobbiamo fare. Allora, io che di solito ho sempre un approccio positivo, parlerò della parte in verde. Quindi, sicuramente è una best practice, una buona pratica, una good practice, usare lo usage workbook. Perché? Perché questo ci fa capire com'è utilizzato il nostro workspace. Ci fa capire cosa c'è dentro, quanto stiamo collezionando. Usiamo l'LA Insights Workbook, di recente rilascio, che ci fa capire in maniera ancora più dettagliata tutto quello che è il contenuto del workspace, le tabelle più usate o meno usate nelle query, se ci sono stati dei problemi e via discorrendo. Altro fattore molto importante è quello di non agire solo per coprire un'esigenza immediata, ma di valutare sempre la big picture. Cioè, di ragionare un pochettino con un occhio al futuro. Se io faccio questa cosa oggi, l'evoluzione com'è, la ragiono direttamente come big picture. Ultimo punto positivo, ultimo di quelli elencati ovviamente, filtraggio del dato affinché venga collezionato solo ciò che è rilevante. Non collezioniamo dati che non usiamo, non collezioniamo dati che non ci servono, perché quelli vanno solamente ad occupare spazio e farci spendere i soldi. Quindi, uno dei key concept di questa presentazione è la spesa diligente, l'osservabilità, l'efficienza tramite l'osservabilità ci può portare anche a spendere diligentemente i nostri soldi. E passo la parla a Antonio invece per le cose negative. Se io sono il don't man, non tentate di indovinare, non usate il pricing, il pricing calculator, quello serve per una stima proprio molto acqua di rose. Non fate delle stime a occhio, c'è degli strumenti per farle precise. Non escludete le data source senza averci pensato almeno due volte, ma almeno io credo anche di più. Perché mi è capitato che gli andati ai clienti, ah quanto occupa quella tabella? No, no, non mi serve, buttala via. C'è la possibilità di avere una retention differenziata per data type, ma poi alcuni strumenti di insight non funzioneranno più o funzioneranno male. Le nostre query che correranno i dati potrebbero non funzionare più. Perché? Perché vanno a correre le dati che hanno periodi di vita diversi. Quindi non pensiamo mai alla data source, ma all'utilizzo che ne facciamo e dove lo facciamo. Per questo c'è una, da farvi vedere, one last thing, una piccola demo dei due strumenti di cui abbiamo parlato, cioè dello usage dell'organizzazione di workspace insight, che è quello che state vedendo, dove sono elencati, come vedete, tutti i workspace a cui ho accesso, dove posso andare in dettaglio a vedere i consumi, quanto ho ingerito questo mese, quindi quanto pagherò mensilmente, quante macchine stanno mandando i dati, quante macchine sono disconnesse, spente, disallocate, hanno un problema di rete, c'è un firewall di mezzo, non lo so. La mia retention e se ho o meno un daily cap. Qui posso vedere il dettaglio e posso anche vedere le tendenze, questo è fondamentale, vi ricordate. Qui vedo lo usage nel dettaglio di tutte le tabelle, posso andare a vedere l'health, cioè tutte quelle operazioni di operation interne di log analytics per la raccolta dei dati e vedere che è tutto a posto. potrebbe essere il dettaglio degli agenti e per il query audit, qui non ci sono query audit, devo cambiare workspace, devo andare sul mio, potete anche vedere chi fa le query, chi fa le query, quanto dura una query, quante righe sono ritornate, quindi potreste anche scoprire cose molto simpatiche e soprattutto quali sono le query inefficienti e quindi andare a prendere per le orecchie e dire guarda stai consumando tante risorse, le query non si pagano, è chiaro, non si pagano, ma una query inefficiente potrebbe per esempio rovinare una visualizzazione e quindi avere dei ritorni sgradevoli. Chi fa le query e anche, ecco qua, sono solo io, chi fa le query e eventualmente gli utenti che hanno preso il famoso HTTP 429 perché esistono, come vi ho detto, degli insight. Un'altra cosa da vedere era lo usage workbook, ve lo faccio vedere al volo. Eccolo qui, workspace usage e qui è riportato tabella per tabella chi sta mettendo e quali dati in quale quantità. un'ultima cosa voglio far vedere, questi sono i workbook e gli strumenti pronti. Noi possiamo anche, come vi dicevo, invece di continuare a fare stime, usare gli strumenti più avanzati. Quella che vedete qui in basso è il consumo di quello che metto dentro la mia tabella di Azure Diagnostic in questo workspace e la linea, la linea arancione è il forecast. Posso calcolarlo e quanti più punti ho, quanto più precisa sarà il mio forecast. Quindi posso sapere esattamente dove finisco, la tendenza. Stessa cosa per lo usage, la stessa query che mi dirà di queste tabelle aggregate utilizzate il mio consumo attuale e qual è la mia tendenza e qual è il mio previsione di spesa. Quindi come vedete, queste sono due query abbastanza scemotte, richiedono un pochettino solo di conoscenza per il make series, ma è tutto adeguatamente documentato nell'interno del questo query language documentation. e però vi danno degli strumenti potentissimi e lo potete applicare su qualunque cosa che sta su Log Analytics. Anche i vostri dati custom. Noi li abbiamo utilizzato per trovare delle anomalie di concentrazione di allarmi su una piattaforma su cui gli allarmi erano anche collegati al formato del dato che entrava, che non era perfettamente allineato a quello che, ma non era un errore, era un'impurità. Con questa cosa abbiamo messo, abbiamo fatto in modo che il customer care e il diverso livello del cliente potesse andare a vedere quando c'è una concentrazione sospetta e capire se magari la sorgente di dati che mandava dei dati aveva un problema, diminuendo di tanto la spesa in persone che stanno lì a guardare tutti i log. Bene, questo è il momento delle domande. Su, non siate timidi, scrivete pure. Non ci credo che non abbiamo domande. Dai, non mordiamo ancora. Abbiamo appena mangiato, quindi non abbiamo fame. No, siamo a posto per quello. Vabbè, uno strumento che non vi ho fatto vedere è l'application insight, che comunque ha la stessa filosofia. A parte ve l'ha fatto vedere Bruno nella demo, io non ve l'ho fatto vedere. Tutti della grande famiglia. La cosa importante è che abbiamo l'engine che è lo stesso. È un engine potentissimo. Qual è questo engine, Antonio? Allora, l'engine è Azure Data Explorer, che potete usare anche per analizzare altri tipi di dati. E Log Analytics usa questo motore e ne condivide lo stesso linguaggio. Quindi è un motore di querying su dati destrutturati di una potenza infinita. Abbiamo già appena rilasciato su doxmy.com un mini video sulle performance delle query e pensate che l'unico limite che ha quando inizi a pensare all'ottimizzazione delle query è sopra al miliardo di righe. quindi tutto questo. Allora, noi vi ringraziamo, ringraziamo i nostri sponsor, ringrazio Bruno, ringrazio tutti voi e grazie mille a tutti quanti anche da parte mia, grazie Antonio e ci vediamo alla prossima, possiamo dire. Sì, ci vediamo alla prossima. Ciao, grazie a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti.